Professionalità, ricercatezza, eleganza e qualità caratterizzano le tre vaselle. Il resort a 5 stelle si trova a Torgiano, nell'incantevole panorama perugino. Il servizio di eccellenza e l'ottima cucina sono i segreti del successo della Splendida Location. Eleganza, preziosità e lusso sono le caratteristiche significative degli spazi del rinomato resort. L'elegante sala ricevimenti, con la sua atmosfera calda e avvolgente, accoglierà fino a 250 persone in uno spazio riservato e confortevole. Le due sale del ristorante Le Melograne, inoltre, saranno anch'esse disponibili con la loro atmosfera accogliente e raffinata per l'allestimento del vostro banchetto. La terrazza e il meraviglioso giardino con piscina vi offriranno uno spazio intimo e suggestivo, dove potrete scegliere di allestire un delizioso ricevimento di nozze o alcune fasi del banchetto durante la bella stagione. I tavoli dei vari ambienti verranno impreziositi dal personale altamente qualificato con piatti in porcellana, tovagliati in raso, posateria in argento e decorazioni floreali originali e romantiche. In un'atmosfera ricercata e unica potrete così trascorrere una giornata signorile e indimenticabile. Le creazioni artistiche dei maghi della cucina sorprenderanno i vostri sensi. Il tripudio di colori e di sapori dei vari piatti sarà in grado di rendere memorabile questo importante giorno. Gli chef reinterpreteranno in modo creativo anche le antiche ricette dell'Umbria e contribuiranno con il loro estro a rendere indimenticabile il vostro ricevimento.